Ciao a tutti e bentornati in questo prossimo video. La voce è un po' orrenda perché ho la seconda ricaduta. Ho comprato un nuovo telefonino, Zenfone Max Pro M2, adesso lo battezziamo, è un 6,3 pollici, 6 giga di ram e 5.000 paia di batteria. Scusatemi, la seconda ricaduta è micidiale, l'ho preso online da Mediawood perché un euro sul sito costa 2,99 euro, questo almeno l'ho pagato 2,99 euro. Allora, qui dovrebbe esserci il telefono, dell'Asus, un pochino, l'acqua, no, no, non è il telefono. Cos'è? Ah, questo va di acqua. Adesso faccio il cambio delle schede, qui c'è il coso per aprire il carrellino, guardate la mia voce orrenda, la plastica del celere del clerno. Il salto puzzano, sicuramente buona, guardate quanto è grosso, questo è il mezzo, guardate quanto è alto, guardate quanto è la differenza, questo è un 5,5 pollici. Eccolo, eccolo, eccolo. Questo, i miei soldi che mi sono guadagnati questi mesi. Ah, ma lì c'è, è sottile in confronto questo. Cioè, anche questo è sottile, però, partizziamo. Allora, 14 mm, tra fosso, slapdrago, 6,60. Guardate, corri la glassa assai. Partizziamo, dai. Ah, l'ho preso blu, bellissimo, bello. Due fotocamera. L'autofocus, con l'import digital e il volto. Bellissimo. Vediamo io già la custodia. Prima devo accendolo. Adesso accende il telefono, però. Accenditi, però. Si accende, no. Non si accende. Un attimo. Ma intanto che non si accende. Adesso vediamo. Magari se la scalco. Non lo so. Se ne vendevo anche le cuffiette. Noi se la mettiamo a caricare. Vediamo un po' se si accende. La unico USB come in mezzo. Da tipo P. Come te la chiamano. Questo è il Charles. Ho capito perché non si accende il telefono. Ecco. Dove va. Te l'ho premuto un paio di secondi. Vedete. C'è il noc. Noc. Un noc con cacchio. Guarda che va. Seno fu. Mi stavo spaventando che non si accendeva il telefono. Io lo so per tirare indietro. Poi a medio. Il filo allungo così. Casi con metro. Chi è? Oh. Benvenuto. Italia. Un po' di più. Oh no. Oh. Ci vediamo tal poco. Eccoci. Allora. Ho bloccato. Un attimo solo. Si è sceltero la banda digitale però. Ah. Chi so. Ok. Ho messo questo qua di Cristiano Ronaldo. Ho cambiato perché l'altro non la trovo più. quella del mezzo. Queste sono tutte le notifiche che ho messo. Sono tutte quelle che c'erano nel cellulare. Un paese a Pokemon Go. Queste sono quelle del cellulare. Allora. Poi. Allora. Impostazioni che si sfora di sopra. Impostazioni. ritorno. Allora. Cion quando voi faccia dei fatti di ramba. Adesso lo sto smanettando proprio. Allora. Allora si. Deve essere questo Andiamo a smanellare il mondo due secondi fa Adesso devo mettere la suoneria E' una mia vecchia suoneria E' una mia vecchia suoneria Ho messo il sistema Ragionamento è il primo dicembre del 2018 Non ho una tranta Allora Vabbè Comunque questo 6 giga di ram E' solo su smanettane di brutto Sai le foto che ci sono fatte io Nicola poco fa? Solo io faccio 6 pazze strane Fa delle belle fotine Facciamo vedere la fotocamera direttamente Apriamo Vedete Ok c'è una brutta di tazza in mezzo Questa è la fotocamera interiore Allora posso dire Ciao Vedete Facciamo l'impazzino un pochino E' chiaro così almeno Vediamo come fa Vediamo se è fuoco Velocissimo Non mi ha fatto vedere la news che è arrivata Ma le fai anche sfocate perché le fai velocemente Le c'ho il ciopo No fermo Fermo Sizza Fermo Allora Dietro Eh? Le sfocate se io le accelero al culo Io le accelero io Sì questo è quello che c'è qua sopra Il ben di dio che c'è qua sopra Che ho appena fatto Sì ok Adesso devo sistemare anche le cose della fotocamera Fai un video con il cellulare Vediamo come vengono Per ora è tutto Vediamo se riesco a distruggere anche il suo telefono Come il mio solido Questo video è tutto Asus 4 Max Pro M2 E' tutto Il prossimo giornalmente sarà un trampo al po' Vediamo se riesco a distruggere anche il suo telefono E basta Adesso devo aggiornare il bluetooth Con l'auricolare E lo cosa per la fotocamera Vediamo che ancora non l'ha trovata Non ho capito perché Vabbè Questo vedete tutto Noi ci vediamo al prossimo video Questo è il poso col perché mi stai stressando l'anima Ok E noi Adesso siamo per il max Questo è il mezzo 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 Questa differenza Si assomigliano di parecchio Perché sono sottili uguali Questo è leggermente Più pesante Però Non importa Questo è mai già morto perché io ho appena fatto scaricare la batteria Ehm Basta Noi ci vediamo al prossimo aggiornamento di questo che è tra un pal po' Mesetto Due Vedo di recuperare anche la voce con l'influenza E tornare a fare i video perché da quando sto lavorando Sono un tiro uccinante E Allora Non posso fare molto Ehm Il colore blu del telefono Aspetta Il blu Il blu C'è il blu argento Un po' 2,99 a media world In questo video tutto Noi ci vediamo al prossimo aggiornamento del telefono Se lo distruggo Se non lo riesco a distrugge vuol dire che è in viaggia E noi ci vediamo come sempre al prossimo video Ciao Allora stavo dimenticando USB di tipo P Ascioli su Il cavo del Cavetto Questo è il sensore Cacchio Microfono Oh Mi sembra che posso usare il telefonino Aspetta Non è il colore babà Me lo smanetto e poi vi faccio i video aggiornamenti Se vi do tutto Noi ci vediamo come sempre al prossimo video Mi raccomando di iscriverti al canale Al prossimo video Ciao ciao Noi ci vediamo come sempre al prossimo video